Signore e signori, tutte le mani al cielo, perché da questo momento il ferragosto ve lo augura Luca Pechino e Roberto Molina! Ce ne so che grattino! E' uscita, Real Selecta, la compilation. Devo ovviamente ringraziare di cuore un amico che si è dimostrato negli ultimi anni più amico del solito, Mr. Andrea Cento, thank you very much. Siamo i tanti, siamo i tantissimi, oggi amico, Real Selecta, Eitel, Campanina, Alassio. Suona! 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 Real Selecta, Blime Sword! Blime Sword M2O! Alberto Sesto Lei senza Facebook è come una macchina senza ruote Quando sono alle 5 e barando 5 Il mercoledì 32 febbraio Su le mani RIA SELEZTA LIFE SHOW La prima volta si dice che faccia un po' male La prima volta si dice che faccia un po' male